Torniamo a dicembre con le cotture solare Vediamo intanto se la parabola è ben orientata Direi che ci siamo Ecco che abbiamo messo l'acqua a bollire Sono circa le 11.53 Vediamo quanto ci vorrà a farla bollire Tutto è ben orientato A più tardi Sono passati pochi minuti quando mi aveva detto che non era l'acqua Ma era il soffritto Luisa sta bruciando il soffritto Qui ora abbiamo i carciofi Ai dolci Vediamo un po' quanto ci mettono Passati pochi minuti sta già bollendo Anche se erano congelati Guarda che spettacolo Riprendiamo i tempi e vediamo un po' quanto ci vorrà A più tardi Vediamo se Ma sta già fumando Sto già fumando Torniamo a controllare Sta bollendo tantissimo Anche se a dicembre E' un sole spettacolare Vediamo un po' di assaggiarlo Vediamo un po' Se è pronto Ecco buttano in terra anche nel carciofo Ci usiamo Via Allora è pronto E' pronto E' pronto E' buonissimo Si può mangiare Allora vai Andiamo a mangiare Arci d'erbola Ma avevo dimenticato lo spec E ecco lo spec che avevo dimenticato di mettere a cucinare Eccolo già pronto E come sfrigola Mamma mia come sfrigola Poi mancava qualcosa che sfrigolasse Ecco finalmente il piatto è completo Possiamo andare a mangiare Buon appetito solare a tutti E vediamo a questo punto di fare anche il caffè Vediamo se abbiamo centrato bene Mettiamo questa caffettiera abbastanza grande A dicembre Ho dimenticato la carta stagnola Andiamo a prenderla Eccoci dopo pochi minuti Ho messo la carta stagnola Ma sta già venendo Mamma mia Mamma mia Ma di già Acci d'erbola E quanto E' male Pochissimi minuti Anche per quelli I commentatori Di tiktok Che dicono ci stai Due giorni Neanche al gas Ci vuole così poco Mamma mia Guarda che spettacolo